Quanti nomi, che corollario di nomi vi è attorno alla felicità e non solo, ma anche attorno alla speranza, no? La speranza che ha bisogno di pace, di consapevolezza di sentirsi parte di un progetto che è quello di Dio, che molte volte non capiamo, ma questo non ci autorizza a sentirci inutili e a considerare peggio gli altri delle persone inutili. Quindi la speranza che ha bisogno di amare le persone per quelle che sono, per i travagli, le problematiche, le difficoltà e le ricchezze che hanno. Ma noi ci soffermiamo soprattutto sui travagli e sulle difficoltà che gli altri hanno e che di riflesso poi possono causare anche a noi problemi. La speranza ha bisogno quindi di educatori che sanno attendere il tempo degli altri. La speranza ha bisogno di saper vedere nell'altro sempre frammenti di verità e di pazienza nelle relazioni con gli altri. Pazienza che evita il chiacchiericcio, che evita la gelosia, che evita l'invidia, che evita la calunnia. Ma la speranza ha bisogno di sogni. Il sogno alimenta anche la speranza. Ma la speranza ha bisogno ancora di un'altra parola. Sentirmi responsabile. Oppure sentirmi corresponsabile con Cristo. Ma sentiamo Papa Francesco. Dopo aver invitato al sogno tutte le cose che ho detto prima, Papa Francesco dice, sii responsabile di questo mondo ed è la vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta e sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua esistenza. In questo mondo verranno altre generazioni che succederanno alla nostra e tante altre ancora. Ecco, sentirmi responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Questa è la vera speranza. È la stessa speranza che ha cantato Maria nel Magnificat. Quindi io non solo devo sentirmi responsabile della mia vita, della vita della mia famiglia, della vita dei miei amici, della vita della mia parrocchia, della vita del mio posto di lavoro, della vita della mia città. No, mi debbo sentire responsabile del mondo. E non solo del mondo, di ogni uomo. Questo è bello. È anche importante. Ma è anche scoraggiante per alcuni. Come faccio a sentirmi io responsabile della vita di un altro? Qui la responsabilità è da intendersi anche come sentimento che si commuove dinanzi alla gioia degli altri, ma anche al dolore e alla sofferenza degli altri. Come faccio a sentirmi responsabile dei milioni di poveri che ci sono nel mondo? Ma non poveri perché sono destinatari di un triste fato, di un destino così sciagurato. No, mi devo sentire responsabile perché anche io, con i miei poveri e piccoli gesti di egoismo, io determino poi grandi sofferenze negli altri. Mi devo sentire responsabile di questo pianeta che stiamo distruggendo tutti. Mi devo sentire responsabile degli incubi che un papà e una mamma hanno per la sofferenza di un figlio oppure perché hanno perso il lavoro e non sanno come pagare il mutuo piuttosto che come pagare l'affitto. Sentirmi responsabile del mondo e degli altri mi porta a essere una testimone di speranza. Vi aspetto domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Grazie a tutti!